Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida. Allora, sindaco, anche per quest'anno il tradizionale viaggio per poter rincontrare i Montesi d'America? Sì, ormai ogni anno è una consuetudine per il comune di Monte di Procida salutare l'altra Monte di Procida, quella che è negli Stati Uniti d'America, una grande comunità in termini numerici, quindi in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi, perché lì c'è veramente tanta bella gente, persone che in passato sono state costrette, come d'altronde accade anche oggi, ad abbandonare il proprio paese per fare fortuna, ci sono riusciti con grande capacità imprenditoriale e la cosa bella è che lì esiste proprio veramente un'altra fetta di Monte di Procida, con le sue tradizioni, con la sua lingua. Mi capita spesso di sentire il dialetto montese antico più lì che qui, quindi veramente c'è un nido di tradizioni dove vengono preservate veramente l'anima genuina di Monte di Procida, quindi è un piacere stare lì, è un piacere salutarli, è un piacere salutare e dare anche una nota di merito a chi lì organizza dei raduni, a chi lì organizza dei meeting, a chi lì polarizza questo senso comunitario intorno a delle manifestazioni, a degli eventi, quindi noi ne prendiamo atto e dobbiamo sottolinearlo e ringraziarli. Quindi girerò come di consueto per diversi stati, visiteremo ovviamente saremo New Jersey, ma anche Maryland, andremo anche in North Carolina, andremo in Pennsylvania, ancora non sappiamo tutte le tappe, ma ne faremo diverse perché poi siamo invitati dalle varie comunità residenti nei diversi stati e per quanto possibile cerchiamo di salutare tutti. Facendolo però andremo anche a dare sostanza istituzionale alla nostra visita. L'anno scorso abbiamo salutato l'amministrazione comunale di Filadelfia, siamo stati in una delle città più prestigiose del mondo dove siamo stati accolti dalla vice sindaco e addirittura dall'intero consiglio comunale che fu sospeso e andò in pausa per accogliere e salutare la nostra delegazione, quindi un grande onore, ma è un onore che riceviamo proprio perché loro conoscono i montesi, conoscono gli imprenditori montesi, conoscono i cittadini, persone oneste e per bene e quindi ci hanno attribuito questa bellissima cosa di una visita istituzionale di altissimo profilo. L'anno scorso abbiamo incontrato anche il sindaco di Chemsburg, altri sindaci come il sindaco di Plainsboro con cui c'è una collaborazione, un'amicizia, quindi anche quest'anno farò un percorso anche istituzionale per dare spessore e per far capire anche all'interno delle istituzioni degli Stati Uniti chi sono e cosa sono i montesi in America e cosa è la comunità montese, questa particolarità di questa doppia comunità con un piede in Italia, un piede all'oltrecena. L'8 di dicembre ci sarà una giornata molto importante, lì c'è un avvenimento al quale lei parteciperà? Sì, sì, c'è un evento l'8 di dicembre a Princeton in questo American and Italian Sportsman Club un evento molto interessante, c'è Ciro Rapizza, Ciro Moriello insieme a tutto il suo staff di eccellenti amici, collaboratori che organizzano questo evento e lo ripeto a lui va un plauso importante per essere momento di aggregazione perché quando si ritrovano tanti montesi che non si vedono da tempo si crea una magia, si crea un'alchimia particolare si comincia a parlare di storie, si comincia a parlare di aneddoti, si comincia a ripercorrere la storia di Monte di Procida tutti insieme. L'anno scorso addirittura una persona venne ad un incontro dall'Ohio e quindi fece otto ore di macchina pur di essere a questi incontri quindi questi incontri sono importanti per tutti, anche per chi vive lontano dal luogo dove si realizzano e permettetemi in conclusione di voler ricordare Attilio Palumbo, detto Cessarella che era sempre uno dei promotori di questi eventi, era un filantrofo, era sempre disponibile sempre generoso con le associazioni di Monte di Procida, promuoveva eventi a tal punto che tanti non lo capivano, dicevano ma perché è così generoso, perché sta sempre a pensare a Monte di Procida perché sta sempre a pensare alla festa, ai fuochi. Io ricordo il suo volto sembrava quello di un bambino quando vide i fuochi del 15 d'agosto, a cui lui contribuiva molto anche con Eventi Italia ad una buona realizzazione della festa e già da mesi prima pensava a ma fa una grande festa quindi quest'altruismo, questa gioia, diciamo la voglio ricordare e diciamo sarà questa visita la prima visita di Anzattilio, anche una visita di ricordo, diciamo improntata sul ricordo della sua importante figura